Vi affannate tanto per il vostro avvenire e per quello dei vostri figli, ma il vostro futuro non sono gli ultimi giorni trascorsi in questo mondo, ma i primi istanti nell'altro. Vi sarete assicurati il vostro futuro e quello dei vostri figli quando garantirete loro il Paradiso. Dovete dare loro la vita e non c'è vita fuori di Cristo. Perciò offrite loro Cristo, ma se non vive in voi, sarà difficile donarlo ai vostri figli.